Tu Andy, come vi siete conosciuti? È successo tutto per caso. Barcellona, la spiaggia, l'Alta. Io invece andavo in una manifestazione in un autobus e c'era lui con una ragazza, anche carina, con capelli biondi, lunghi, insomma. A un certo punto questo autobus si ferma e lei va in bagno. Lui si avvicina e mi chiede cosa stai scrivendo? Niente, dei pensieri. Mi piacerebbe che vi fosse un libro. Ciao, mi piacerebbe. Lui manco mi fa finire e mi dice scrivici anche questo, mi prende e mi bacia. Insomma, finisce che andiamo via noi due in autostop. Per lui bisognerebbe fare la vita così, di viaggiare, di conoscere le persone. Anche a me piacerebbe fare la vita così. Quella poverina che... che fine ha fatto? Quella sull'autobus? Sì, ho capito, non lo so. Che cazzo di domanda è? Cazzo, però pensa che botta per lei, è una schiappa da pisciare. È contenta, eh. Puff. Si ritrova da sola. Secondo me le storie dovrebbero iniziare in un altro modo, eh. Come? Senza far male a nessuno. Senza far male a nessuno. Senza far male a nessuno. Per lui. Come? 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 Come?